Benvenuti alla sesta parte di Art of Darkness! Sono stanchi? Ma certo, troviamo whisky! Non possono toccare il terreno Too late! Troppo tardi, vediamo cosa succede L'ombra! Cosa sta succedendo? No, non è ok Si sta trasformando? Ecco cosa sono quei mostri Sono acrobat malvagi Guarda come chiamarli Alla magic rock, la roccia magica! Vediamo un po', quindi stiamo ritornando dove eravamo nel terzo livello Magic, magic, magic rock! Vediamo un po', dobbiamo poter prendere la roccia Cosa sta succedendo? Oh! Oh! Vediamo un po', oh! Cosa, cavolo, dovevo fare? Oh, mamma mia! Già iniziamo bene Stavo, volevo parlare un attimo, no? Stavo, volevo parlare un attimo, no? Vediamo un po', sì! Pam, pam, pam Ok, uno Due Due Tre Vediamo l'ordine Ok, è fatto! Wow! Ma che... Cazzo Cioè io ho fatto una fatica per arrivare fin là, guardando Ma... Vediamo un po' C'è un seme Oddio Ma povero Andy Sta morendo in modi atroci Ok Forse ho capito Devo far crescere quel seme No Oddio Sta mentre stavo caricando Maledetti Ok Vediamo se blocca Blocca Molto bene E adesso? Devo premere il cuoco? Ok Va Oddio Questo inizio è drammatico Allora Zitto Non chiamare gli altri Non chiamare gli altri Non chiamare gli altri Mori Ecco Quindi E morti tante volte Adesso Credo abbiamo finito Con le trappole Ok Da Ho capito che mi volete bene Ma Non abbracciatemi così forte Salta 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 Dai che vi faccio saltare un po' Ah ma c'è una roccia magica lassù Oh Bella La guardiamo La fissiamo Attentamente Ok andiamo Oh 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 Cosa diavole Cosa diavole Volete fare Ma Cosa Chi vi crede Di essere Mostri Mostri Dell'ombra Oh Devo Oh No Deidre Ok Andiamo 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 E andiamo A prendere Questo seme Vediamo un po' Mmm Non posso Ma Scusa Non è giusto Io mi spiace Il seme no Cioè Mi stai dicendo che Il seme non viene Di sotto Ma dai Crediamo un po' Ah Credo avrei capito Ok Vediamo se funziona Funziona E faccio alzare La roccia magica Ecco Che emerge Dal Dal Sott'acqua Magico Ma Ma Non ha fatto così Ok Continua il livello Vediamo un po' Sono arrivando gli acrobat Malvaci Ok 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 Ho svelto il tasto Povero Andy Morto così Sei vado di qua Ciao Uh Che schivata Ragazzi Avete visto Che schivata Mi andietate Per favore Oh Un'altra schivata Grandiosa Uh Cioè Aspetta Mi stanno arrivando colpi Dal per tutto Paffan Bagno Bagno Questi acrobat malvaci Sono troppi Non è che Cado Che ne sono in qualche buco E ritorno Dunque Nella parte delle trappole Un'altra trappole Un'altra trappole Favo vedere che È stato Il signore del male A Metterelo sott'acco Per evitare che gli acrobat Potessero toccarlo E così distruggere Le ombre malvace Oh Ti ho toccato Interessante Per mirare è difficile No 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 L'ho sfiorato L'ho sfiorato Eh dai Venite Acrobat malvaci Muah Dai 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 Sbaglio il tasto Ma Datemi una mano Sto disciudendo tutti io Sono finiti No Non mi prenderai mai Non mi prenderai mai No 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 Voglio No Non mi prendi Non mi prendi Non mi prendi Non mi prendi Hai capito Mi ha preso Ok Vediamoci cosa Ho filmato Yeah Boogie Troppi acrobat malvaci Boogie Battaglia epica Tra acrobat buoni Ma acrobat Cattivi Good shot E mo adesso Ti trovo nei guai No non è vero Ok Ma che sei rotta Come un cristallo Molto bene Adesso Siamo finalmente Nella casa Del covo Del mavaggio Mi stai facendo Cadere Certo Ovviamente Come si fa a vivere Senza alcol Ok Credo che Questa puntata Finisce qua Per oggi E ci vediamo Alla prossima parte Alla settima parte Ciao amici Ciao amici